... Incidente nel pomeriggio di lunedì 11 settembre intorno alle 18 sulla stade serrata di Riva Rossa al confine con San Francesco al Campo. Una Fiat Panda condotta da una donna si è ribaltata adagiandosi su un fianco. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Verde, i vigili del fuoco di Torino Sture, San Maurizio Canavese e i carabinieri. La donna, dopo le prime cure, è stata trasportata all'ospedale di Cerie, non è in pericolo di vita, ha certamente in corso sulle cause dell'incidente. La donna, dopo le prime, è stata trasportata all'ospedale di Cerie. La donna, dopo le prime, è stata trasportata all'ospedale di Cerie. La donna, dopo le prime, è stata trasportata all'ospedale di Cerie.